La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato uno stalker per l'incendio dell'auto del compagno dell'ex moglie. La squadra mobile ha ricostruito il reato grazie alle immagini di videosorveglianza ed alcuni particolari dell'auto dell'indagato. Gli uomini della Polizia di Stato sono riusciti a ricostruire ogni movimento dell'indagato proprio grazie alla videosorveglianza dove si è visto l'uomo che a bordo della propria auto è partito da Vittoria per raggiungere Ragusa presso l'abitazione dell'ex moglie e del compagno di lei, da cui è separato da tre anni. Controllato che non vi fosse nessuno, ha parcheggiato l'auto poco distante e ha piccato l'incendio che si è propagato velocemente allarmando i residenti per le fiamme alte. L'uomo invece è risalito a bordo della sua auto e si è diretto verso Vittoria, comune in cui vive. Durante il tragitto per Vittoria l'uomo ha però avuto un incidente stradale autonomo, forse per lo stato emotivo e per il reato poco commesso prima. Sul posto è intervenuto il personale di polizia che ha rilevato l'incidente identificandolo come conducente, pertanto non vi erano dubbi che il veicolo di sua proprietà fosse da lui condotto. Altro particolare raccolto dalla squadra mobile è quello che l'autovettura di proprietà dell'indagato ha un guasso ad una delle luci anabaglianti, segno distintivo del veicolo rispetto ad altri ed è stato in questo modo ulteriormente identificato. Sentito dalla polizia, il proprietario dell'auto è emerso che la compagna, ex moglie dell'indagato, era da tempo vessata dallo stesso, infornendo in lei un forte timore per la sua incolumità e quella del compagno, costringendoli a cambiare abitudine, non recandosi ad esempio più a Vittoria. Non pago di aver costretto la coppia a vivere a Ragusa, l'indagato poche settimane dietro appiccava l'incendio all'auto del compagno della vittima, colpevole di aver iniziato una relazione con l'ex moglie. La squadra volanti è intervenuta, chiamata dai residenti, insieme alla squadra dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, senza evitare però la totale distruzione del veicolo del valore di 40.000 euro e la parziale distruzione di un altro veicolo in sosta accanto a quello preso di mira. Al termine delle brevi quanto incisive indagini, il pubblico ministero Fornasier, valutando positivamente le fonti di prova raccolte, ha chiesto e ottenuto al GIP la misura degli arresti domiciliari a carico dell'indagato. Ieri gli uomini della Polizia di Stato si sono recati presso l'abitazione del Vittoriese per eseguire la misura cautelare a suo carico. L'uomo non ha opposto resistenza, forse perché consapevole del grave reato commesso. Dopo averlo condotto presso gli uffici della squadra mobile e il fotosegnalamento da parte della Polizia scientifica, gli agenti lo hanno condotto in casa senza che questi si possa ora allontanare. Grazie a tutti.